ciao a tutti ragazzi video notturno ho aspettato apposta la mezzanotte per farlo per augurarvi gli auguri di natale quindi buon natale a tutti ma per l'occasione volevo inaugurare un piccolo contest natalizio appunto per fare gli auguri a tutti e andare un attimo a anticipare i festeggiamenti dei 750 iscritti al canale youtube mi raccomando chi ne ha ancora fatto mi raccomando un bel follow al canale youtube per supportare questo progetto quindi appunto buon natale e associamo la cosa così uno di voi avrà diciamo un piccolo piccolo presente da parte miei amici mancherebbe ovviamente stiamo a natale giusto così perché 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 natale appunto non c'è un perché ma come funziona questo contest l'altra volta l'abbiamo fatto sulle rose un po particolari questa volta però volevo andare a curiosare un po sempre sulle vostre rose ma quelle che utilizzate per andare a sbloccarvi i giocatori tv argento quelli che ogni settimana vengono messi nelle varie obiettive electronic arts vi faccio vedere la mia così avete idea di cosa sto dicendo magari qualcuno non li fa qualcuno li fa io li faccio tutti questi obiettivi sono divertentissimi e questo qua il file che ho chiuso di qua ok perfetto eccola qua la rosa perfetto io utilizzo questa rosa di argentoni per andare a sbloccare tutti quelli che sono usciti praticamente mi sembra di averli messi tutti qua tra un po finisco lo slot quindi sto un po modificandola perché magari c'è qualcuno che può interessarmi però inizialmente ho pensato a una rosa di brasiliani veloci che scattano prendono le mani in porta poi subito adesso vado a cambiare i due attaccanti con iota e sulle mana che sono molto 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 efficaci e quindi mi aiutano davvero tanto per andare a sbloccare i vari giocatori argento che non hanno praticamente un vero e proprio utilizzo quest'anno però è molto carina la modalità mi interessa divertente sblocco i giocatori mi fa molto piacere e quindi volevo sono curioso di sapere voi se fate questo obiettivo e chi lo fa fatemi lo screenshot della vostra formazione che utilizzate per andare a sbloccare questi obiettivi argento quindi la formazione di completa argentoni mandatemela sulla mia pagina quella instagram lo dico bene mi confondo sempre con telegram ragazzi però instagram quindi schiaccio 81 anzi sapete cosa faccio ve la faccio vedere dall'altra parte così almeno è pronta eccola qua un secondo che la carico perché non ero pronto lo sto facendo al volo questa cosa quindi la mia pagina instagram è questa qui non si vede nulla perfetto clicco di qua eccola qua e va bene ragazzi questa è la mia pagina instagram quindi schiaccio 81 ve lo scrivo ovviamente ve la linko in descrizione però ripeto mandatemi in privato qui le formazioni argento che utilizzate per sbloccare i tv argento della settimana io do un occhio a quella che mi incuriosisce di più che mi piace di più poi come al solito contatterò la persona che me l'ha mandata per andare poi a dargli un piccolo presente da parte mia che saranno i soliti 2200 fifa points quindi proprio una cosa un contest molto molto classico come sempre il lo scopo dei contest ragazzi divertirsi fare un po fare gruppo fare comunque community e divertirsi insieme poi è giusto anche premiare chi ha fantasia secondo me la fantasia premia sempre quindi mi raccomando ragazzi come vi dicevo prima mandatemi in privato su instagram le vostre formazioni di argentoni io me le guardo oggi è il 25 per il 31 l'uno l'uno di gennaio quindi per tra una settimana chiudiamo il contest e poi dal 2 contatterò farò un video dove andrò a premiare chi mi ha colpito di più con questa con queste formazioni quindi mi raccomando contest aperto lui chiuderò il primo di gennaio quindi a mezzanotte quindi il 2 praticamente e poi entro nel 2 il 3 di gennaio 2022 andrò a contattare chi ha mi ha colpito davvero tanto con la formazione degli argentoni argentoni completamente full argento mi raccomando andate a rifaccio rivedere è quella che utilizzo appunto per sbloccare i tv argento tutti argentoni mi raccomando ragazzi torniamo in regia mi raccomando fatemi tutte le domande nel caso qui nei commenti come sempre un bel follow al canale youtube così supportiamo questo progetto e ovviamente ci divertiamo insieme ci vediamo al prossimo video buon natale ancora e aspetto ovviamente tantissime informazioni ciao a tutti ragazzi e buon natale ancora